buonasera cari amici e ben ritrovati in un mio nuovo video scusatemi forse mi vedete un po' obliqua storta come vi ho detto l'altra volta ma c'è diciamo il contenitore del telefono che si sta per rompere perciò lo mantiene così niente questo è un video ho preso tre cosine da i brochet venuta la mia amica in questo pomeriggio e ora ve li mostro come ogni volta che che li compro sono diciamo le solite cose perché io compro gli stessi prodotti perché mi trovo divinamente allora in queste campagne ho preso 17 80 e ho preso due bottiglie di bagno doccia uno alla noce di cocco che è veramente buonissimo sia la profumazione e sia anche l'idratazione che dà la pelle veramente 400 ml per sempre non credo che ha variato il prezzo 3 95 peccato che mi durano poco perché io con mio marito li consumiamo tanto poi ho preso la profumazione pesca come si dice bagno doccia pesca e anice stellato sto cocendo la pizza e il timer vi ha avvisato niente ho preso quella la profumazione pesca e anice stellato che è una pesca pure da mangiare troppo buona sia anche come odore al solito e sia come efficacia del prodotto sempre 3 95 e poi ho preso due sciampi diversi tra di loro uno è quello anti inquinamento e uno è quello per capelli grassi allora questo in questione è quello anti inquinamento e la prima volta che l'ho utilizzato mi sono trovata benissimo tutte le volte va con la volta che l'ho utilizzato veramente lascia i capelli puliti tantissimo lucidi si vede da una pulizia profonda e come sempre sono senza siliconi ed è 300 ml di prodotto e si chiama shampoo micellare detox ed è diciamo ha una funzione pure purificante come diciamo per i capelli grassi può darsi elimina a cui c'è scritto il 94 per cento di impurità buonissimo diciamo gli agenti atmosferici che che troviamo fuori per strada con le macchine lo zono si attaccano tutti nella cute naturalmente questo ci aiuta a pulire al meglio allora gli shampoo sono costati dove messo la cartina si forse hanno lo stesso prezzo si tutte e due lo stesso prezzo 495 per 300 ml allora questo era quello anti inquinamento e questo invece il mio solito che mi trovo molto bene quello lo shampoo purezza per capelli grassi perché anche per gli grassi come vedete già sono lucidi di qua ma non è la luce perché già hanno bisogno di essere lavati perché li ho lavati domenica oggi siamo mercoledì ma li lavo domani giovedì perciò sempre questo mi trovo benissimo ve ne ho sempre parlato bene soprattutto si sente la duttilità del prodotto nelle mani si sente diciamo molto molto raffinato il prodotto veramente nella pelle non crea allergie e soprattutto lascia i capelli puliti a fondo sia questo sia questo ma comunque tutti i prodotti che io ho utilizzato della ivroche mi sono trovata benissimo forse solo con un prodotto che aveva acquistato mia mamma la matita occhi non era molto indicata però con quelli che ho comprato io mi sono trovata benissimo poi la mia amica mi ha lasciato il catalogo per la versione natalizia se una vuole fare qualche regalino qualche cosa io non lo so se ormai farò qualche cosa da qui comunque ve lo ve lo segnalo se avete qualche rappresentante vicina comunque penso che ve lo farà notare questo catalogo ci sono tanti pensierini anche tipo messi in tris di prodotti a diciamo prezzo regalo tantissime cose utili profumi e prodotti beauty eccetera e oppure se avete vicino un negozio lì credo che ci saranno i posti questa campagna arriva fino ai primi di dicembre perché poi comunque si devono ritirare i prodotti per te alle persone mi ha detto la mia amica niente questo era tutto il mio video questo è quello quello che vi dovevo dire dei prodotti che avevo acquistato come di consueto io ve lo faccio sempre perché sempre c'è qualcuno che magari interessa libro c'è ora ho visto notato che ci sono sempre si sta diffondendo bene questa marca perché vedo tante persone che lo pubblicizzano anche persone rappresentanti che hanno la rappresentanza proprio di broccia e lo stanno pubblicizzando bene c'è pure il catalogo dell'avvento ma io non ho chiesto quanto costa costerà un pochettino e ci sono tanti prodotti vali diciamo la gamma dei prodotti della i pro scena è una delle youtuber che ha fatto la pubblicità in broccia e michelin non so se la conoscete o la seguo da quando iniziato a seguire video su youtube è molto brava e ha fatto la testimonial nella campagna scorsa mi sembra molto molto brava ok vi invito a seguirla ma non ho bisogno che ve lo dico perché credo che la conosciate michelin ha un bel un bel numero di iscritti altro altro che i miei assolutamente lei ci lavora proprio con youtube infatti una blogger va bene per adesso vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata al prossimo video ciao